Per tutto il plombo che io faccia, per il questo punto, ma perché non c'erano le nostre messe. Se usate il pennellino, se usate il plomo, si nonostante, ma dove vederà il nostro franchimento, non c'erano le donne, non dalle la retina, non c'erano i centristi. Bene, se ne è andata in lingua, adesso, una vita di metà, se ne è andato a fare un pochino che ci soffre, che non so già come c'è il novembre e avvento a vincenzo, come stessi imprecciando, se è tutto a cui...